Un buongiorno a tutti, sono nel mio studio di Savona. Oggi come riccio avrei dovuto tenere un concerto per gli amici del Carlo Felice in collaborazione con l'associazione GOG di Genova. Quindi io vi invio il mio più affettuoso abbraccio musicale a tutto il pubblico genovese della GOG e ai soci dell'associazione Amici del Carlo Felice. Nella speranza di poterli riabbracciare presto, eseguirò un balzer di Chopin. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.